Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio, situazione da Bollino Rosso sulle strade toscane, in A1 in direzione Roma ci sono code a tratti tra Aglio e Calenzano, code in uscita a Firenze in Pluneta provenendo da Bologna e rallentamenti tra Firenze Sud e incisa a Reggello per traffico intenso, in direzione Bologna code a tratti tra Firenze in Pluneta e la variante di Valico, in A12 code a tratti tra Livorno e l'allacciamento per la A15 in entrambe le direzioni, un raccordo Siena-Firenze e scambio di carreggiata tra Monteriggioni e Siena in direzione Siena, Moversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze, buon viaggio!